Si con Simone Ruffini per FinTV, reduce dalla... Reduce, reduce di guerra, reduce la 25 km Che poi è un po' una battaglia È una bella battaglia, comunque sono 5 ore belle intense Senti, trionfo di Martina Grimaldi, tu sei arrivato settimo, per voi uomini è stata un po' più dura Eh, per noi è stata un po' più dura, però per me non ti dico che è stata quasi una medaglia oggi, però buon risultato Cosa è cambiata nella 25 km che l'ha fatta diventare quasi una gara veloce? Eh, un po' anche il circuito ha influenzato parecchio E poi comunque il fatto che sono scesi in acqua l'Urs, Giannotis, che comunque inizia a interessare a più persone Che non si fermano mai Sono dieci anni che stanno lì avanti e che vogliono ancora vincere Speriamo di arrivare all'età loro e fare metà di quello che hanno fatto loro Senti, tattica di gara? Tattica di gara... Quella studiata era di provare a partire gli ultimi due giri, provare a fare uno strappo, un allungo Purtroppo... E arrivati a un certo punto? Eh, purtroppo non siamo riusciti a fare quello che avevamo studiato Però va bene così Senti, prossimi appuntamenti, so perché Martina va subito in colpa del mondo E tu? E io vado in vacanza Dove di bello? Prima voglio tornare a casa dai miei genitori, stare un po' rilassato E poi non lo so, vedo E poi si riparte tutto fondo? E poi si riparte a settembre, sì, vediamo Beh, anche qualche gara in basca non fa male Grazie Simone, alla prossima, ciao